I pareri emessi dalla Corte dei Conti riguardo la stabilizzazione dei precari siciliani hanno provocato dubbi, perplessità e preoccupazione nei comuni e nelle famiglie delle migliaia di contratisti del Messinese. Per superare l'impasse, l'assessore regionale Bernadette Grasso presenterà all'Ars due emendamenti per ribadire e rafforzare quanto già sostenuto con le leggi regionali 27 del 2016 e 8 del 2018. Le stabilizzazioni si stanno facendo in forza di una norma nazionale che è la legge Madia con il combinato disposto della legge 27 che è una legge regionale. Quindi stiamo intervenendo con una norma ma solo per scrupolo, proprio per consentire e per dipanare ogni dubbio ma già le circolari, le norme nazionali io credo che consentono di procedere speditamente. Poi vi sono alcune interpretazioni che anche lì nel parere riguardo alle risorse assunzionali che hanno un po' frenato le amministrazioni comunali, i segretari comunali ed è da chiarire questo discorso proprio delle risorse assunzionali perché le risorse sono previste con una legge regionale, sono destinate alle stabilizzazioni per cui non possono essere destinate all'esterno perché proprio sono state previste per superare il precariato. Il precariato dura da 30 anni ed è arrivato il momento per mettere ordine sia all'interno degli enti locali ma anche della regione perché stiamo stabilizzando anche i precari regionali che si chiuda nel periodo in cui è previsto appunto dalla legge emadia che è quello del 2020.